amici bentornati sul canale 9000 giri elaborazione autosportive siamo qui in officina noi a Segrate e vi presentiamo per l'ennesima volta ne abbiamo già fatte almeno 4 o 5 come video ne fate molto di più e non sono state registrate però come video ne troverete almeno 4 di queste Jaguar F-Type e come ho detto altre volte secondo me è una macchina veramente molto molto personalmente ha una linea che è eccezionale veramente una bellissima macchina è una macchina furba nel senso che viene proposta importata in italia con due motorizzazioni 2000 turbo benzina che è questa e il 3000 che ovviamente dei costi di gestione diciamo più impegnativi quindi la macchina furba e avere la stessa macchina con la stessa linea con un motore fiscalmente e come potenza leggermente inferiore per il resto la macchina assolutamente uguale c'è una differenza diciamo di prestazioni ma non così significativa da rimpiangere quest'anno 2000 da rimpiangere la sorella maggiore poi in questo colore verde inglese direi proprio poi quando la tiriamo giù all'interno color tabacco direi che l'accostamento cromatico anche se un po sporca della carrozzeria verde inglese con l'interno tabacco è proprio l'accostamento perfetto per questo genere di macchine abbiamo avute altre di colori diversi diciamo bianca piuttosto però verde con l'interno color biscotto assolutamente non non ha uguali quello che ci viene chiesto perché sostanzialmente su queste macchine qua i clienti poi vedono i video e ci chiedono sempre queste cose infatti abbiamo fatto quattro macchine e su tutte quattro le macchine abbiamo fatto grosso modo a quanto meno lavoro principale sempre stato lo stesso e cioè il fatto di andare a sostituire la linea di scarico la linea di scarico originale questa quindi partiamo dalla parte centrale qui c'è un risuonatore che non è proprio un vero silenziatore ma un rompifiamma risuonatore chiamiamolo come vogliamo abbiamo la y di sdoppiamento qua abbiamo il silenziatore posteriore che come vedete è un diciamo una volumetria veramente importante dopo vi facciamo vedere quello che abbiamo sostituito fatto un paragone e riuscite a capire il tipo di differenza le due cose che voglio farvi notare sono la valvola le valvole che vengono comandate appunto queste sono valvole di serie che servono appunto per variare la rumorosità ovviamente la variazione di rumorosità su uno scarico come questo c'è ma è sostanzialmente abbastanza limitato perché comunque sia non si può avere una linea diretta viene sempre con assorbito quindi ci può essere percentualmente una differenza all'ordine di un 20 per cento mentre lo stesso meccanismo le stesse valvole le abbiamo mantenute sul sullo scarico sportivo e quindi funzionano esattamente come funzionano queste solo che il risultato finale sarà un pochino diverso dopo tiriamo giù la macchina dal ponte vi facciamo sentire la sonorità con la variazione della valvola quello che come ho detto tante altre volte la differenza diciamo l'aspetto negativo fra la versione 2000 la versione 3000 è un dettaglio però secondo me è un dettaglio non di poco conto è l'estetica dell'uscita dello scarico posteriore che io chiamo l'aspirapolvere della uver ecco questo è lo scarico come si presenta quindi direi assolutamente anonimo e non in linea con una macchina di questo genere direi anche abbastanza bruttino per quello che mi riguarda e questo veniamo a quello che abbiamo fatto riprende esattamente perché la nicchia è questa in quella nicchia cioè questa nicchia ci stava appunto quel trapezio che avete visto lì sotto abbiamo montato i due terminali da 102 mi sembra che il diametro sia 102 tagliati a 30 gradi in maniera tale da seguire la linea del prodotti posteriore cromati la linea è completamente questa parte qua è completamente omologata sono terminali cromati della ragazzon e questa è esattamente la situazione che si va a che si trova sulla versione 3000 la versione 3000 ha esattamente questi scaricchi qua quindi se uno raffronta il posteriore di due macchine cambiano dal giorno alla notte proprio non c'è non c'è paragone venendo alla parte più tecnica come dicevo qui avete la stampigliatura dell'omologazione dello scarico quindi ragazzon con il numero seriale del dello scarico unitamente allo scarico noi lasciamo al cliente una carda che riprende gli stessi numeri in maniera tale che dimostra che questo scarico è stato fatto e omologato in maniera specifica per questa vettura quindi l'omologazione non è un'omologazione generica ma l'omologazione specifica se uno vuole da un punto di vista burocratico procedurale la legge vorrebbe che questa card fosse questo numero di omologazione fosse riportato sul libretto ovviamente siamo in italia ed è un paese noto per creare problemi più che facilitarli perché se lo scarico omologato lo è sia che sia riportato sul libretto sia che non lo sia non è che lo scarico cambia magicamente è solo un modo per rompere le palle alla gente detta proprio molto onestamente la procedura non è difficile però chiaramente bisogna prendere la card e portare un'agenzia di pratiche auto la quale poi motorizzazione farà riportare le specifiche sul libretto è anche vero però questo lasciamo diciamo la lasciamo il cliente al cliente alla decisione è anche vero che il 99 per cento dei casi se uno venisse fermato se uno trova proprio un agente particolarmente come dire caratteristico diciamo così chiaramente non gli viene fatto nessun verbale perché vede che comunque lo scarico omologato indipendentemente dal fatto che ci sia o meno una scritta che è una questione unicamente burocratica e stupida andando avanti nel nel lavoro come dicevo quindi questo è il terminale con una silenziatore che più o meno a livello di volumetria è il 50 per cento adesso grosso modo il 50 per cento di quello originale e andando avanti lo scarico è composto è un tutt'uno si arriva fino alla parte centrale dove viene eliminato quel quel risuonatore ci sono ragazzon propone due soluzioni siccome diciamo che lo scarico comunque fino a questo punto deve essere cambiato non si può prendere solo la parte posteriore sulla parte centrale lo scarico composto in linea da tutte e due queste parti l'alternativa è quella di avere la parte centrale con un rompifiamma leggermente più piccolo rispetto a questo qua con tutto ovviamente con questa soluzione la rumorosità ne guadagna perché proprio abbiamo eliminato in toto quel risuonatore adesso io direi di tirare giù la macchina sul ponte che sentiamo un attimo la il sound dal vivo e vediamo un attimo che tipo di risultato abbiamo ottenuto allora sentiamo adesso come come si presenta la la sonorità dopo il montaggio dello scarico non saranno sonorità diciamo particolarmente invasiva però è diciamo piacevole perché a questa questi scopietti in contropressione che sono particolarmente interessanti vai pure così a valvole chiusa quindi la sonorità così è stock pochino più elevata rispetto a prima così è stock adesso prima di aprire la valvola oltre allo spoiler posteriore ok quindi la differenza direi che è notevole anche se il se la sonorità al minimo non è diciamo particolarmente fracassona come la chiamo io il bello appunto è avere questa questa contropressione in scalata che crea questi queste detonazioni proprio tipiche di uno scarico libero scarico aperto questa è la grossa differenza cosa che con il terminale originale assolutamente non si riusciva ad avere quindi direi che lavoro fatto bene centrato molto bello esteticamente io penso che il cliente sarà assolutamente soddisfatto ciao 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 ciao